La palla che era in aria, ho visto che non arrivava nessuno, mi sono ambientato, ma volevo a tutti i costi questo gol per dare una mano alla squadra e sono molto molto felice di averla aiutata a questa vittoria. A tutta la mia famiglia e specialmente a mamma che la settimana scorsa era il compleanno, quindi specialmente per lei.